Buongiorno ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Divix, oggi ci sono un sacco di novità, parliamo di Inter Fiorentina di ieri sera, però prima devo dirvi due cose velocissime. La prima è che finalmente ho reso di nuovo pubblico il numero degli iscritti. Qualcuno mi ha chiesto come mai, non si potevano vedere. Non era un segreto, il fatto è che questo canale è nuovissimo, ha compiuto un mese ieri e preferivo essere valutato per i contenuti piuttosto che per il numero degli iscritti. Adesso siamo già più di 1500, quindi sono contentissimo e ho deciso di renderlo di nuovo pubblico Parliamo di Inter Fiorentina di ieri sera, devo dire tre cose belle e tre cose brutte. C'è anche una nuova sigla, buona visione! Eccoci qua, nuova sigla, Inter Fiorentina, 2-1 per l'Inter, partiamo dalle tre cose belle che ho visto ieri sera. La prima cosa bella che ho visto ieri sera si chiama Nicolò Barella e vi assicuro che avrà inserito Nicolò Barella nelle tre cose belle di ieri sera, a prescindere dal gol meraviglioso che ha fatto. Barella non è un giocatore che deve fare i gol, deve fare altro, ma in questo momento ha già recuperato la condizione dopo essere stato fermo un mese. Quando io ho visto giocare Nicolò Barella la prima volta ho pensato, questo sembra Nainggolan quando aveva 23 anni, ma mai avrei pensato che in così poco tempo Nicolò Barella sarebbe diventato così forte. Non so quanti altri giocatori siano in grado di correre così tanto, recuperare così tanti palloni ed essere comunque in grado di trattare la palla così bene. Quindi complimenti all'Inter perché ha fatto un acquisto azzeccatissimo, 50 milioni di euro, avevano detto sono troppi, non sono troppi. Quello che mi preoccupa è che Barella non ha un vero e proprio sostituto ed è il motivo per cui Conte aveva chiesto e richiesto Vidal. La seconda cosa bella che ho visto ieri sera, e sono sicuro che sarò l'unico a dirlo oggi, si chiama Lukaku. Perché dico Lukaku? Adesso vi spiego una cosa. Per tutti questi mesi è stato fatto un parallelo con Icardi. Ecco Icardi in Francia non segna da circa un mese, anche ieri sera non ha segnato e sui giornali cominciano i primi Muguni. Addirittura Dugarri l'altro giorno ha detto se non c'è Di Maria che gli passa la palla davanti alla porta non è in grado di fare gol. Ci sono passati anche tutti i fosenteristi, Icardi è un fenomeno quando segna ogni partita, appena non segna per due o tre partite di fila diventa un brocco. Ecco ieri sera invece Lukaku che non segna da due o tre partite è uscito tra gli applausi scroscianti del pubblico di San Siro. Si sa che lui fa fatica in casa, non essendo super tecnico, negli spazi stretti ogni tanto ha qualche difficoltà, ma ha lottato come un leone, gioca per la squadra, tiene su un sacco di palloni e aiuta tantissimo i centrampisti e tutti quelli che gli girano intorno. Inoltre aggiungo che ha sempre belle parole, sorrisi e segni di approvazione per ogni passaggio sbagliato, per ogni lancio lungo e per ogni errore dei propri compagni. Veramente è uno spogliatoio e credo che gli vada dato merito di essere un giocatore che sta dando veramente tutto per questa squadra. Quindi l'ho messo fra le cose belle di ieri sera. Terza cosa bella di ieri sera, ho visto per la prima volta l'Inter da inizio anno essere in grado di gestire la partita. Non so se è stato fatto volontariamente, però spesso l'Inter tende sempre a cercare un altro gol, a pressare alto, a scoprirsi, ad attaccare. Ieri sera dopo il 2-1 invece ho visto un atteggiamento per la prima volta diverso. Forse Conte ha capito che questa squadra non può spingere per 90 minuti in quel modo. Per vincere i campionati, per vincere le competizioni, ogni tanto bisogna essere anche in grado di gestire le partite e rallentare un pochino il ritmo. Oltre a altre cose belle, non ve l'ho detto all'introduzione, ma faccio anche un piccolo commento sull'esordio di Eriksen. Non l'ho messo fra le tre cose belle, perché Eriksen oggettivamente ieri sera non ha fatto assolutamente nulla. Però mi ha impressionato tantissimo. Per un motivo, sembrava un ragazzo che stava giocando al parco in ciabatte. Non un minimo di pressione, non un minimo di paura. È un campionissimo, lo sappiamo, ha anche una grande personalità. Si è messo lì, si è fatto dare i palloni, ha giocato quasi da fermo. E quello che ha impressionato realmente ieri sera è stata proprio la personalità e il modo in cui ha fatto sembrare semplicissimo giocare davanti a 50.000 persone. Ora passiamo alla parte brutta del video. Le tre cose che non mi sono piaciute ieri sera. Primo punto, l'Inter senza Barozovic non sa giocare a calcio. L'Inter ha fatto un primo tempo oggettivamente brutto. È vero che Vecino e Varela non sono due playmaker. In questo momento Sensi non sembra quello di settembre. Eriksen non è un playmaker. È un centrocampista con una qualità infinita, però non giocherà sicuramente davanti alla difesa. Quindi bisognerà vedere, e già lo scopriremo nella partita contro l'Udinese, se l'Inter riuscirà a trovare una soluzione per giocare a calcio anche senza Brozovic. Seconda nota negativa della serata ieri sera si chiama Alexis Sanchez. Oggettivamente Sanchez è stato anche un pochino beccato dal pubblico. Ha giocato completamente fuori ruolo. Sanchez non è un trequartista. Ha avuto grandi difficoltà, soprattutto perché la Fiorentina gioca con un centrocampo a 5, quindi non c'erano neanche gli spazi. In questo momento però Sanchez diventa fondamentale, perché l'Inter adesso gioca contro l'Udinese e poi giocherà contro il Milan. E l'attacco sarà tutto in mano a lui e Lukaku. Sanchez è stato fermo 4 mesi, non ci si può aspettare che in 20 giorni recuperi già tutta la condizione. Però in questo momento è arrivato il suo turno e ieri sera non è sembrato pronto. Ultima nota negativa della serata ieri sera non riguarda l'Inter, ma riguarda la Fiorentina e si chiama Federico Chiesa. Un giocatore che è spesso sulla bocca di tutti, è accostato alla Juventus, è accostato all'Inter, è considerato uno dei più grandi talenti del calcio italiano, ma anche ieri sera mi ha profondamente deluso. Non è riuscito mai a inquadrare la porta, spesso si incastra da solo col pallone e nel paragone con Vlaovic, il suo compagno d'attacco, è stato completamente surclassato. E considerando che nella Fiorentina quest'anno gioca da attaccante, non è possibile che un giocatore valutato oltre 70 milioni da inizio anno ad oggi segni solamente 4 gol. Ecco, se siete interessati a sapere di più su Federico Chiesa, vi linko qua sopra un video che ho fatto circa 20 giorni fa, proprio su Federico Chiesa, dove spiego nel dettaglio pregi e difetti del giocatore e perché, a mio parere, non vale 70 milioni di euro. Se invece è la prima volta che è capitale sul mio canale, questo è il tastino per iscrivervi. Se vi piace il calcio, iscrivetevi, sono sicuro che non ve ne pentirete, troverete un sacco di video interessanti. Ciao ragazzi, al prossimo video!